E bella a tutti ragazzi, come state? State bene? Passate delle belle vacanze? Io sono cavata. Mi sono fatto due settimane di ferie, però da YouTube come avete visto mi sono preso un mese di niente. Non lo facevo da quattro anni, da quando ho aperto il canale e sta cosa mi è servita, mi sono riposato e adesso sto bene. Mi sono proprio completamente staccato da YouTube, non è che non ho fatto niente. Ho suonato, ho registrato roba, però è stata una cosa molto più soft, senza scadenze. Io di solito quando faccio video mi preparo tutta una scaletta, anche giornaliera, in cui devo fare determinate cose per arrivare al giorno in cui pubblico che ho tutto fatto. Perché se no uno rimanda, uno si perde e non va più avanti. E invece se uno vuole essere costante deve fare le cose fatte per bene, di fila, una cosa di fila all'altra, senza perdersi. Erano quattro anni che non lo facevo, quest'anno mi sono concesso il lusso di starmene un mese senza fare un cazzo. E questa cosa ha giovato. E ha giovato anche per il fatto che comunque non è stata un'estate così malaccio rispetto anche alle estate scorse. Perché, per esempio, di solito d'estate c'è un calo di visual clamoroso. Cioè, d'estate, diciamo, metà luglio, il primo terzo di settembre è il periodo più merdoso in assoluto. E effettivamente è stato il periodo più merdoso in assoluto. Perché comunque sia quest'anno con il lockdown d'inverno avevo avuto dei risultati buoni. Perché ovviamente la gente non faceva un cazzo e guardava YouTube. Ora che c'è stato quel momento, diciamo, da metà maggio a ora che la gente è potuto riprendere un attimino quasi la normalità, YouTube è andato giù a bestia. Quest'anno è andato giù, ma c'è stato un risvolto positivo. Ho fatto una cover, prima di prendere questa pausetta, la cover di Savage Love di Jason Derulo. E io non ci avrei scommesso un cazzo, l'ho fatta così, proprio alla Carlona. Tra l'altro il riff nel drop della canzone è anche basso perché dovevo pubblicarla al volo e di conseguenza non ho prestato troppa attenzione. Alla fine mi sono accorto che era basso. Ho avuto un discreto successo perché, beh, nonostante quando l'ho pubblicata avessi solo scritto cover, non se ne vincolava nessuno, come al solito. Poi ho corretto in metal cover e i risultati sono cresciuti un sacco. Tant'è che comunque si è superato le 2000 visualizzazioni, ha diversi like, molti di più rispetto alle mie solite cover. E questa cosa mi ha, diciamo, tenuto a galla durante tutto il mese di agosto. Cioè io andavo su YouTube studio a vedere tutti i giorni quanto era salita la canzone. E questa cosa mi ha caricato di buoni propositi. Ora, tutto questo discorsone per dirvi, ragazzi, la programmazione di YouTube dovrebbe ripartire di nuovo regolare, quindi un video a settimana, se riesco, ogni venerdì, e non dovrebbe subire variazioni. Ora, ci sono delle cose che bollono in pentola. Sono delle cose che probabilmente avranno diverse conseguenze sulla mia routine e sulla mia vita. Però io spero, credo, che comunque sia la parte del canale rimanga super giù invariata. Magari potrà succedere che salterò una settimana, o magari faccio due video attaccati. Comunque sia, in media, un video a settimana, come al solito. E niente, comunque sappiate che tutto è a posto. Quando sarà il momento di dirvi queste cose che succederanno, non vi allarmate, eh, niente di che, ve le dirò in un vlog tipo questo. Quindi niente, ragazzi, bisogna riprendere, bisogna fare le cose per bene. Il lockdown è dietro l'angolo. Quindi io vi auguro una buonissima giornata. Noi ci becchiamo prestissimo. E quindi, ciao!